ciao ragazzi facciamo un bel deathmatch a fazioni su canali di noscia mi sembra che sia present normale non 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 Grazie a tutti. Merda. Cazzo. Bella. Ciao. 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 Ehi, ehi. 8 Manners, come cazzo di giami. Ma che cazzo, ma dai, ma battene a fanculo, va. Dio. 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 Grazie a tutti. 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 Porca puttana guardavo le teste che andavano io. Le teste di cazzo. Ma io quanto cazzo sto? Oh... 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 Pezzo di merda! Pezzo di merda! Dirla io perché... Quando ti bruci una volta che cazzo continua a mettere la mano su fuoco. Nabbone sei un nabbone col bipode, nabbone! Se non hai le palle c'è il bipode, c'è il bipode, c'è il coglione! Cazzo siamo amici! Cazzo siamo amici! Che cazzo sparo! Cazzo... 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 L'abbiamo persa... Cazzo... 15-15, cazzo, è come se non ho fatto un cazzo. Niente, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like. Se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi perché nella descrizione avete anche il link sia della pagina YouTube sia della pagina di Facebook se volete unirvi al gruppo. Masterchip vi saluta, ciao ciao, buona serata a tutti.